ciao dolcette benvenuti in questo nuovo episodio di dolce flerte università castiel allora non sto nella pelle perché finalmente oggi vedremo l'appuntamento con lui e chissà quello che accadrà non vedo l'ora di vedere l'illustrazione quindi cominciamo subito sto finendo la doccia chi è che sta bussando non è yilin vero sto finendo la doccia yilin entra mi sono avvolta nell'asciugamano e sono tornata in camera perché hai ed ecco così ha reagito ok che occhia scusatemi guardate è scioccato ci ho appena visto tutte bagnate con l'asciugamano beh in effetti capisco perché è rimasto così a bocca aperta ehi no vabbè raga ma lo sguardo lo vedete io lo adoro accidenti ho stretto l'asciugamano assicurandomi che non si vedesse niente casomai cioè ha già visto tutto lui in realtà che cosa ci fai qui castiel non c'eravamo dati appuntamento allo necrum sì e lui se la ride ma non ha intenzione di vestirti avere una conversazione così mi turbo un po ma perché sei turbato sentivo le guance in fiamme il mio armadio si trova dietro di lui devo prendere i miei vestiti aspetta dopo aver frugato a caso nel mio armadio mi atteso diverse tenute arrotolate ma vestiti vedremo dopo ho preso l'ammasso di vestiti e mi sono chiusa a chiave in bagno mi sono specchiata e mi sono accorta di essermi fatta la doccia dimenticandomi di togliere il mascara no vabbè non ci sto credendo ottimo che eris sei sempre al top davanti a castielle proprio ho smistato gli abiti ma accidenti ci sarà qualcosa da poter abbinare tra tutta questa roba ah ok devo scegliere la tenuta non la devo sbagliare perché sennò mi gioco l'illustrazione questa qui è per castielle la tutina a bordeaux è così elegante anche se ok dai non è male va bene convalidiamo no dai è molto carina invece poi mi piace tantissimo questa acconciatura la adoro perfetto ho indossato la mia tenuta e mi sono asciugata velocemente i capelli prima di tornare in camera stavo per addormentarmi e io che stavo per avere una crisi cardiaca prima che cosa ci fai qui non potevo fare altrimenti c'è un sacco di gente in città è stato organizzato una specie di festival nel parco come sono uscito dal mio appartamento sono stato braccato da un gruppo di ragazze ho provato ad andare allo snack room ma mi hanno seguito ti fai braccare da delle fan delle liceali penso all'inizio sì ma poi il gruppo ha continuato ad ampliarsi mi chiedevano in continuazione di fare dei selfie ho aumentato il passo fino al bar e molte di loro hanno continuato a seguirmi quindi ho pensato di venire qui dicendomi che se le avessi lasciate davanti alla porta dell'università ma chi hanno seguito fino a qui no non ci sto credendo che ma cos'è ma ma come perché ti hanno seguito fino a qui sono riuscito ad entrare solo nel dormitorio ma evidentemente la voce ha continuato a diffondersi ho preso la chiave della scrivania e sono corsa a chiudere la porta a chiave perfetto che bello siamo bloccati in camera con lui ma sta meraviglia grazie ai creatori del gioco immagino che non sia la serata che ti aspettavi no infatti è molto meglio della serata che mi aspettavo il in non c'è siamo io e te in camera da soli ma secondo te mi lamento sono sicura che possiamo passare una buona serata qui posso mettere della musica e possiamo chiacchierare non ho niente da bere ma oltre a questo sarà identico allo snack room vediamo ho messo la musica sul mio computer una bella musica ambientale piuttosto rock naturalmente poi ho acceso la ghirlanda sulla mia scrivania allora sei stupito molto ma è sempre così quando essi no è uscito un nuovo videoclip e ho avuto molto successo ah sì ho preso il telefono fammi vedere ti interessa certo ha cercato su internet il video e ha messo play prima di ridarmi il telefono ma io vorrei vederlo creatori del gioco potevate inventarvi qui qualcosa la canzone comincia con la base e di colpo il suono della batteria accompagnata dalla chitarra è forte sembra quasi metal molto più cupo di quello che fa di solito la prima persona che si vede nel video è castielle al volante di una macchina di color nero opaco come vorrei vederlo che sfreccia in una foresta ad una velocità assurda lo riconosco e non lo riconosco eppure non è truccato tantissimo ma esce dalla macchina vestito completamente di nero con dei jeans a vita bassa e una canottiera nera io me lo sto immaginando facendo il movimento di chiudere la porta della macchina si vede l'osso dell'anca è davvero sexy devo riconoscerlo mentre guardavo il video si è alzato e si è appoggiato sulla mia scrivania non ha fatto caso alla mia reazione la sua voce si è alzata potente e morbida allo stesso tempo nel video si vede che entra in un immenso castello e che sale le scale 4 a 4 per raggiungere una giovane donna in una camera no questa cosa non mi piace è semplicemente vestita con una vestaglia blu trasparente le passa il braccio attorno alla vita bacia il suo collo con forza abbandonandosi così totalmente fra le sue braccia gelosia portami via vediamo solo inquadrature ravvicinate su alcune parti dei corpi dei due attori non oso nemmeno più gettare uno sguardo a castiella la clip termina con lei completamente nuda su di lui bendata con la bottiglia di veleno tra i denti che finge di baciarlo per versargliolo in bocca oh però figo sto videoclip cioè io me lo sono immaginata tutto castielle la spinge via lei si alza e scappa lasciandolo soffocare nella stanza non si vedono gli altri musicisti nel video si vede solo lui la realizzazione è incredibile sembra un cortometraggio ecco ho appoggiato il telefono sulla scrivania wow ora capisco meglio l'entusiasmo il video è pazzesco grazie lui è contento fino ad ora non si vedeva il tuo viso nei video ma sei un buon attore mi hanno convinto a farlo dicendomi che avrebbe funzionato se mi fossi fatto vedere ha funzionato benissimo non ci credevo molto ma ero l'unico ad essere contrario quindi mi sono dovuto mettere in gioco sentivo delle risate ho l'impressione che siano nel corridoio direi che avevano ragione quando l'avete messo in linea ci sono già più di 400 mila visualizzazioni e decine di migliaia di commenti nel primo pomeriggio cosa sta avendo un successo è pazzesco ho guardato i commenti ed erano tutti per castielle ne ho letto qualcuno del tipo sposami oppure pensare che questo ragazzo viene nella mia università e ho visto un altro commento ho creato una pagina se volete tutte le informazioni possibili su castielle cliccate qui per abbonarvi con tanto di cuore ho cliccato per curiosità si trattava di una fanpage castielle accidenti guarda cosa io l'ultimo posto in linea era una foto della porta di di camera mia no non ci posso credere di camera mia con scritto è entrato nella stanza di una delle residenti dell'università anteros omg castielle ha guardato a lungo la foto prima di reagire bene penso proprio che passeremo qui la serata finiranno per annoiarsi sei sicuro secondo me devi passare pure la notte qui poco importa è seduto sul mio letto non hai paura di quello che diranno quando uscirai da qui c'è un'altra soluzione uscire dalla finestra non lasciare mai questa stanza è un invito ho sentito i battiti del mio cuore accelerare mi sono seduta accanto a lui sai che non hai niente da invidiare a quella ragazza del video grazie per avermelo detto mi sentivo un po insicura eppure ci sarebbe qualcosa da invidiare ti sbagli per davvero ha appoggiato la sua mano sulla mia con dolcezza prima di guardarmi negli occhi castielle la prova è che sono qui con te e non con lei ed è con te che volevo essere questa sera il suo sguardo scende sulle mie labbra e mette la sua mano sulla mia guancia mi sento improvvisamente accaldata ha avvicinato il suo viso al mio sento il suo respiro accarezzarmi il mento posso tu non non devi cioè tu non puoi devi posso non fare domande fallo ecco chi è che ci interrompe sul più bello cioè voglio proprio che è successo che cos'è un forte colpo alla porta ci siamo alzati tutti e due bruscamente è stato talmente forte che ho pensato che la porta stesse per cadere abbiamo sentito delle risate provenire dal corridoio ma non c'è qualcuno che interviene a fermare ste invasate lì fuori romperai la porta così potremo avere dei problemi con la direzione siete pazzi è l'unico modo per sapere se davvero lì accidenti la mia porta che cosa stanno facendo credo che dovremmo interrompere la serata metto termine a tutto questo una volta per tutte si è alzato furioso e si è diretto alla porta l'ho fermato afferrandogli il polso non farlo daresti un'immagine negativa del gruppo la situazione si calmerà nei giorni a venire non fare qualcosa di cui ti potresti pentire ho un'idea cosa ha aperto la porta al volo trovando davanti una quindicina di ragazze a bocca aperta seguito da un lungo silenzio castiel volete qualcosa di sensazionale ecco a voi ha preso il mio viso con dolcezza tra le mani e ha appoggiato le sue labbra sulle mie davanti alla folla di ragazze o m g cosa no vabbè è incredibile così il primo bacio sinceramente non me l'aspettavo cioè la dolcetta gli occhi sbarrati e ce li ho pure io in questo momento sono senza parole raga questa illustrazione è bellissima non mi immaginavo che castiela avrebbe fatto una cosa del genere wow ok riprendiamo il gioco top 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 77 miliardi di pollice in su grazie buona serata castiel ha attraversato il gruppo prima di correre nel corridoio in direzione dell'uscita ma come te ne sei andato io pensavo che richiudessi la porta e che restassi con me per un istante sono rimasta immobilizzata davanti alla mia porta mentre le ragazze mi fissavano sotto shock penso che sia reciproca la cosa ho visto una ragazza frugare nella sua borsa e prendere il suo telefono ho subito avuto l'istinto di ricollegare il mio cervello e fare un passo indietro e chiudere la porta con forza wow ho scosto la testa come per rimettere l'idea in ordine che cos'è appena successo una cosa bellissima bea da te mi sono voltata e ho chiuso la porta chiave pensando a quelle furiose che potrebbero riaprirla ho accarezzato le mie labbra mi ha appena baciata non è davvero quello che mi aspettavo per un primo bacio ma vuol dire che siamo di nuovo insieme abbo o l'ha fatto solo per farle tacere prima che queste idiote colpissero la mia porta stavamo per troppe domande ruotano nella mia testa ho guardato il cellulare nessun messaggio da parte sua penso che stia correndo per rientrare a casa esito nell'inviargli un messaggio ma non so come o cosa dire mi sono lasciata cadere a pancia in giù sul letto a braccia concerta che cos'è appena successo accidenti ho guardato il video di castiel mi sono svestita il tutto restando sdraiata sul letto ranecchiata sotto le lenzuola ho guardato il suo video più e più volte finché non mi sono addormentata mi sono risvegliata il giorno dopo con un mal di testa pazzesco wow ho l'impressione di avere postumi della sbornia quando in realtà ieri non ho bevuto nemmeno una goccia ho cercato il telefono sotto il lenzuolo con frenesia accidenti dov'è ah eccolo il simbolo che indica tre nuovi messaggi è apparso quando ho acceso lo schermo le mie mani hanno iniziato a tremare pensando che fosse castiela invece lui no proprio zero super novità io e tuo padre siamo finalmente riusciti a vendere tutti i tuoi vestiti da neonata e pensare che li avevo tenuti da parte per tutti questi anni è stato un colpo al cuore separarsene guarda com'eri minuscola il messaggio è accompagnato da una loro foto al mercatino dell'usato con mia madre con in mano un pigiamino bianco e verde ridicolarmente piccolo ho aperto il secondo messaggio comunque è stato difficile separarsene ma abbiamo recuperato dei soldi ci pagheremo il tuo prossimo regalo di natale un bacio ad entrambi e mandaci delle tue foto e raccontaci delle novità ho aperto il messaggio successivo un po delusa vedendo che era di alexi cassiel non mi ha scritto da notare che nemmeno io l'ho fatto ma non sono io ad essere scappata dopo aver rubato un bacio davanti ad un gruppo di ragazze ho cliccato con rabbia sulla piccola icona del messaggio non aperto vieni subito non posso chiamarti ma vieni subito che cosa questo messaggio è stato inviato alle sei del mattino a quell'ora dormivo ho chiamato alexi e ha risposto alla seconda chiamata alex scusami ho appena visto il tuo messaggio mi hai iscritto alle sei del mattino dormivo perché all'ospedale che eris vieni all'ospedale subito cosa cosa è successo io vieni velocemente per favore ha staccato oh mio dio cos'è successo mi sono alzata di scatto ho rimesso i vestiti di ieri ho passato la porta di camera mia verificando di avere il telefono e i soldi per il bus purtroppo adesso arriverà un momento molto molto brutto andiamo usciamo ho attraversato il cortile fino a perdere il fiato in meno di un minuto sono passata dalla mia camera al cancello dell'università cavolo il bus arriverà tra dieci minuti ho guardato il telefono per rileggere il messaggio di alex in cerca di informazioni non c'è niente io ho inviato un messaggio dicendogli che stavo aspettando il bus chiedendogli maggiori informazioni nessuna risposta il bus è arrivato il biglietto costa 5 dollari paghiamo dopo una ventina di minuti di strada ero finalmente davanti all'ospedale non avevo novità di alex ho preso il telefono per chiedergli dove l'avrei trovato poi l'ho visto ho subito capito guardando il suo viso è rosa alexi mi ha stretta tra le sue braccia con forza e il bambino no 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 non questo abbiamo aspettato più di un'ora all'entrata prima che lei tapparisse potete andare da lei e nella stanza 380 al terzo piano lei all'inizio era contraria ma le ho parlato e penso che sia importante che vi veda ho voglia di abbracciarlo ma io e lui non siamo abbastanza in confidenza e così mi sono trattenuta late tutto bene non avevamo preso in considerazione questa possibilità i primi tre mesi di gravidanza possono essere soggetti a delle complicazioni è molto frequente oh no è per questo che la maggior parte delle donne annunciano la loro gravidanza dopo è terribile sono contento che ve ne abbia parlato prima non è sola non siamo soli ho guardato alexi che era pallido vado a prendere un caffè ed un succo di frutta per lei vi lascio andare da lei si è diretto verso il bar mentre io ed alexi raggiungevamo l'ascensore mentre salivamo mi sono resa conto che late non aveva risposto alla mia domanda oh mamma che momento terribile questo le tende sono spostate e rosa guarda verso la finestra non si è voltata verso di noi quando siamo entrati io ed alexi ci siamo avvicinati al letto ho messo la mano su quella di rosa è fredda alexi ha messo la mano sulle nostre siamo rimasti così per un momento prima che rosa si girasse guardandoci senza dire niente avevo l'impressione che qualsiasi cosa avessi potuto dire non sarebbe servita a niente povera oh rosa io mi dispiace io avevo finito la sua stanza le ho stretto la mano ancora più forte avevo finito di decorare la sua stanza ho abbracciato rosa chinandomi sul suo letto e piangeva lacrime calde nelle mie braccia il suo respiro a volte si bloccava come se fosse in preda ad un attacco di panico ho sentito il suo corpo rilassarsi per un momento le sue spalle non sono più scosse dai singhiozzi vuoi che apro la tapparella alexi ha bisbigliato no assolutamente si è seduti entrambi accanto a lei con una voce quasi inaudibile ci ha raccontato quello che era successo è semplicemente andata ad un appuntamento per un'ecografia con lei e il dottore le ha detto che il cuore del bambino non batteva più è colpa mia è sicuramente colpa mia io no no rosa io mi sono addormentata tardi ho ordinato delle cose ho sollevato dei cartoni pesanti e poi io non avercela con te stessa e purtroppo è una cosa molto frequente tra le donne in questa fase della gravidanza io ripeto maldestramente quello che lei te ci ha detto voglio confortarla in tutti i modi non possiamo immaginare quello che provi immagino che ti vedevi già con lui che avevi pianificato tutto lo so che è dura ma non hai fatto niente di male rosa lo so lo so che è dura pensare a queste cose ma un giorno ricomincerai con leite e ce la farete rosalia non ha reagito ha continuato a fissare le sue mani io forse no alexi mi ha guardata disperato forse sono io il problema forse non posso avere dei bambini ha accarezzato teneramente la guancia di rosa ma no non sei tu il problema sono sicuro che tu vai bene e rosa semmai ma sono sicuro che non sia il caso avrai un problema di questo tipo ci sono altre possibilità tu si può sempre adottare rosalia ha scosso la destra non c'entra niente è lungo le procedure sono lunghe ma è possibile rosa rosalia ha lasciato le nostre mani e ha dato un pugno sul letto no era qui era qui dentro di me come puoi dire questo non prenderò il bambino di qualcun altro dal momento che ne portavo in grembo uno non c'entra niente come potrei amarlo come amavo lui non è possibile la sua voce ha avuto l'effetto di un eco nella piccola camera io e alexi abbiamo indietreggiato sorpresi ma io non puoi capire voi non potete capire lei è entrato in camera a tutta velocità guardandomi sono completamente bloccata tra i due stai dicendo per caso che un bambino adottato è meno amato di uno cresciuto dai genitori biologici certo è lì dentro di me non ne voglio un altro come se qualsiasi bambino uscito da un orfanotrofio possa rimpiazzarlo uscite lei tannuito come per dirmi di ascoltarla ho preso alexi dal braccio e senza riflettere l'ho tirato fuori dalla stanza mamma mia questa parte della storia è veramente orribile è difficile anche interpretarla e leggerla è assurdo alex non è il lasciami rientro a piedi ha spostato la mia mano dalla sua spalla ed è uscito dall'ospedale aumentando il passo ho provato a fermarlo ma mi ha urlato di lasciarlo in pace ancora sotto shock mi sono avvicinata alla fermata del bus non c'è un bus prima dell'una ed è anche domenica mi sono seduta sulla panchina e ho atteso ho aspettato più tempo del previsto e il bus non è passato e il seguente ha avuto un ritardo di diverse ore quando sono finalmente salita il conduttore mi ha spiegato che c'era un problema sulle linee non l'ho ascoltato mi sono seduta non ho pagato e non mi ha posto domande mentre attraversavo il cortile del campus calava la notte ho trascinato i piedi fino alla hall del dormitorio per raggiungere la mia stanza e ok andiamo vedo la luce filtrare sotto la porta della mia stanza dovrebbe essere gilin non ho la forza di oh shani ciao che bello incontrarti in una situazione così tragica come questa che iris cavolo ti ho preso per un fantasma nel vederti trascinare i piedi così per il corridoio tutto bene con un nodo alla gola tutto quello che ho potuto fare è stato scuotere la testa per dire di no ha aperto la porta della sua camera e mi ha fatto cenno di seguirla mentre sentivamo delle urla nell'ascensore che stava arrivando urla ho aumentato il passo fino alla stanza di shani siediti tieni bevi questo mi ha dato un bicchiere ho bevuto in un sorso un liquido verde al gusto di menta sono scoppiata a piangere dai lasciati andare shani si è seduto accanto a me ha appoggiato la mano sulla mia spalla per confortarmi ho sentito il mio telefono vibrare chissà chi è alexi ha abbandonato il gruppo il trio infernale il telefono ha vibrato di nuovo rosalia ha abbandonato il gruppo il trio infernale ma quanto è triste questa cosa cioè shani mi ha preso il telefono dalle mani e l'ha appoggiato sulla sua scrivania prima di riabbracciarmi no è finito così l'episodio sinceramente pensavo fosse un po più lunghetto che succedesse qualcosa in più tipo che noi raccontavamo qualcosa a shani che lei ci confortasse o non lo so va bene allora quindi il capitolo 10 è finito in questo modo tragico con praticamente la perdita del bambino di rose e la fine dell'amicizia tra i tre ragazzi non mi aspettavo sinceramente di ricevere il primo bacio da castello in questo modo però è stato spiazzante e l'illustrazione davvero tanto tanto carina se lo avete apprezzato e vi è piaciuto anche a voi mi raccomando il pollice in su e fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti staranno insieme da questo momento in poi boh chissà staremo a vedere come si evolveranno le cose spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo di iscrivervi se non l'avete fatto io vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi in un prossimo gioco ciao